Dal 2009 al 2011 il Fondo Finanziamento Ordinario delle Università subirà una decurtazione del 18,17%, pari a 1 miliardo e 361 milioni di euro. Tagli che incideranno in particolare sui fondi destinati ai giovani ricercatori e agli interventi per il sostegno al diritto allo studio. Si calcola infatti che nei prossimi anni si perderanno circa 45.000 borse di studio. Lo ha dichiarato Lillo Fasciana, segretario generale della FLC CGL di Catania, nell'ambito della settimana di mobilitazioni indetta da tutte le organizzazioni sindacali e associazioni della docenza contro il disegno di legge sull'università. Noi riteniamo che sia una politica sbagliata e che vada corretta, ma per far cambiare rotta al governo occorre una mobilitazione diversa.